Si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Palazzo Battiferri la 14esima edizione del Career Day dell'Università di Urbino, ormai entrato nel DNA dell'Ateneo della città Ducale. Un'opportunità non indifferente per i giovani i quali entrano in contatto diretto con importanti realtà imprenditoriali locali ed internazionali, grazie alla possibilità di presentarsi a dei possibili datori di lavoro, consegnando il proprio curriculum presso gli stand aziendali e sostenere colloqui con i referenti delle risorse umane. Come sottolinea il professor Tonino Pencarelli è un primo momento della verità per misurarsi professionalmente col mondo del lavoro. È un evento che sta funzionando bene, abbiamo circa un migliaio di partecipanti, partecipanti i quali vengono anche preparati a questa iniziativa con dei laboratori di orientamento al lavoro, partecipanti che vengono di solito con dei curricula e che quest'anno possono addirittura essere direttamente coinvolti in un percorso di selezione diretta e mirata del personale effettuata da sei importanti brand nazionali e locali. Uno dei career day in Italia che secondo me è organizzato meglio, sia per il volume di candidati, di giovani che vengono al desk, sia per un discorso qualitativo. Il polo didattico dell'Università di Urbino prepara, a mio parere, molto bene le persone sia da un punto di vista linguistico, ma non solo. Due giorni non solo di incontri e colloqui con importanti aziende, ma anche di laboratori per le aree estero, start-up e carriera, ai quali si sono iscritti oltre 600 ragazzi da tutta Italia. Noi abbiamo cercato con questa iniziativa di fornire uno scenario su tre argomenti base, che sono la carriera, quindi la possibilità di trovare un lavoro all'interno di un'azienda, la possibilità di trovare anche delle opportunità all'estero, ma anche di poter avviare un'attività in proprio. Quindi abbiamo cercato di toccare questi argomenti sia all'interno dei workshop che si tengono nelle nostre aule, ma anche con le aziende e le organizzazioni che sono presenti e che quindi sono in grado di fornire dettagli e informazioni utili ai ragazzi per come muoversi sul mondo del lavoro.